Cari amiche e cari amici, Roma 3 Orchestra è nata nel 2005. Avevamo organizzato una grande festa per il 17 marzo al Teatro Valladium per celebrare questa ricorrenza. Tuttavia la festa è soltanto rinviata, abbiamo riprogrammato questo concerto per il 19 giugno sempre al Teatro Valladium, sperando che per quel periodo la situazione sarà risolta. Vogliamo darvi quindi un piccolo assaggio, ovviamente eseguito dai nostri musicisti. Buon ascolto! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!